Ogni storia di disoccupazione è una storia diversa e quindi avere una medicina generica per tutti non funziona. L'abbiamo fatto in molti casi, abbiamo cercato di lavorare anche molto su garanzia giovani, perché i giovani hanno una difficoltà ad entrare nel mercato del lavoro molto particolare, oggi ne parleremo. Abbiamo un tasso di disoccupazione fra i giovani che è proprio inaccettabile e noi su questo vogliamo lavorare. Oggi annunceremo anche una politica specifica su questo punto. Naturalmente gli over 50 anni sono una storia diversa e così via, e quindi abbiamo fatto una lunga sperimentazione di politiche attive che in alcuni casi hanno dato dei buoni risultati. Il tasso di disoccupazione è leggermente migliorato in Sardegna e il nostro dovere è consolidare ulteriormente questo. La giornata di oggi è importantissima perché porta nello stesso luogo migliaia di persone, centinaia di aziende ed è molto importante che ci si parli. Deve essere chiaro che stiamo vivendo tempi molto complicati dal punto di vista del lavoro. I lavori vecchi sono oggi non più richiesti, competenze di un certo tipo non sono più richieste, competenze nuove sono richieste moltissimo e qualche volta ci mancano le persone portatrici di queste competenze. Quindi oggi è molto importante per tutti, per esempio per gli studenti che saranno qui numerosissimi, farsi un'idea precisa di ciò che le imprese stanno cercando. Ricordatevi che i dieci lavori che ho richiesti oggi, dieci anni fa, non erano nemmeno pensati, conosciuti. Quindi sta cambiando il mondo e noi dobbiamo creare luoghi come questi in cui ci si parli molto tra le imprese e chi deve investire nell'istituzione. Questo è il segno profondo ed è una vera politica attiva quella che facciamo oggi per rendere meno distante lo spazio tra l'impresa che cerca e il ragazzo o la ragazza che deve fare l'investimento giusto per rispondere alla domanda di lavoro dell'impresa. È del tutto ragionevole che un'impresa, prima di legarsi stabilmente ad un lavoratore, voglia capirne le capacità, voglia valutare se ha le competenze e la capacità di usare queste competenze adeguate al mondo che è sempre più competitivo per un'impresa. Il contratto a tutte le crescenti dà il tempo di fare questa valutazione. Noi a questo vogliamo aggiungere anche, rivalorizzare, disegnando con molta attenzione i tirocini perché le imprese possano, per esempio nel caso dei giovani, avere il coraggio di vedere se questi giovani in che misura sono in gamba, possono contribuire a rendere l'impresa più competitiva in effetti. Si parte con un tirocinio e oggi racconteremo come noi vogliamo che poi questo tirocinio, quando ci sono le qualità, quando c'è l'incontro positivo tra impresa e ragazzi o ragazze, possa trasformarsi in un contratto sempre più stabile, superando quel confine che diceva lei nella direzione positiva, cioè verso un rapporto di lavoro consolidato. Quando si parla di agricoltura, l'agricoltura moderna ha una definizione, si chiama agricoltura di precisione, è una cosa molto semplice, che oggi l'agricoltura la si fa con molte più tecnologie che nel passato, per esempio per risparmiare l'acqua, per esempio per non essere vittima dei cicli stagionali, di una siccità. Se si ha una buona tecnologia, come per esempio fanno gli israeliani, non è così importante guardare ogni anno quanto piove perché la tecnologia compensa per i cicli climatici. Quindi c'è moltissima tecnologia, c'è moltissimo stranamente il collegamento a internet che è fondamentale, per esempio per avere previsione del tempo, per misurare il grado di umidità della terra e così via. Quindi io incoraggio i giovani a pensarsi digitali anche nell'agricoltura, perché questo è il futuro dell'agricoltura e io credo che sia anche un futuro importante per molti giovani in Sardegna.